Musica con le regole di caccio, l'obiettivo si muove, sta avanzando, ripeto, l'obiettivo sta avanzando, non intervenire, non intervenire fino a nuovo ordine, ripeto, si diretti la posizione, non intervenire, non intervenire la posizione, l'obiettivo si muove, sta avanzando, ripeto, l'obiettivo sta avanzando, non intervenire fino a nuovo ordine, ripeto, si diretti la posizione, l'obiettivo si muove, sta avanzando, ripeto, si muove, sta avanzando, ripeto, si muove, sta avanzando, c'è stato il fuoco, a tutte le unità, c'è stato il fuoco, non sparate, non sparate, serve l'unità di emergenza, うco, non sparate, non sparate! L'obiettivo si muove, si muove! Rauda però va avanti, innanzialisate! A presto A presto A presto